Una valanga ha travolto poco prima delle 9 di domenica 21 novembre un 43enne di Parre. L'uomo stava raggiungendo con due amici di escursione la zona del rifugio Curò a Valbondione, quando improvvisamente è rimasto travolto da una valanga con un amico che si è prontamente liberato dall'enorme massa nevosa precipitata da un'altezza di 2300 metri, fin giù all'osservatorio faunistico di Maslana. Scattava immediatamente la macchina dei soccorsi. Uomini del soccorso alpino con l'ausilio di unità cinofile di un elicottero del 118 hanno lavorato per più di quattro ore prima di rinvenire l'alpinista sepolto dalla neve trasferito all'ospedale Bolognini di Seriate dove si trova ricoverato in stato di ipotermia acuta. Abbiamo avuto una chiamata che tre persone che stavano presumibilmente andando al Curò prima di attraversare il tagliamento alla parte finale sono stati investiti da una valanga, credo che due siano rimasti travolti, uno è uscito e ha delle ferite lieve e sta per essere accompagnato qui mentre l'altro non l'ha più trovato e quindi abbiamo allertato i soccorsi. La zona è impraticabile con l'elicottero, è impraticabile anche la strada perché sono scese tutte le valanghe e quindi possiamo raggiungere qui mezzi sulla prima parte del sentiero e abbiamo 22 persone che si sono allertate e hanno raggiunto la zona con quattro unità cinofili e speriamo di risolvere al più presto la situazione. Dovrete fare evacuare anche la gente presente al Curò? Non so, adesso lo valuteremo successivamente, però adesso abbiamo avuto una chiamata solo dal COCA che diceva che due persone erano in difficoltà a scenderli, abbiamo fatti tornare, li facciamo aspettare a rifugio e poi quando avremo risolto questa emergenza penseremo anche loro eventualmente o attraverso la galleria verso il Curò e la funivia che l'Enel ci ha dato la disponibilità, cercheremo di farli scendere. Grazie. 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 Grazie.